Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Leggiamo insieme in Atti, capitolo 17, verso 30. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano. Questo è molto importante. Dobbiamo stare attenti, perché in questi ultimi tempi si predica un Vangelo e non si parla del ravvedimento. Ora, Dio comanda all'uomo di ravvedersi, ma d'altra parte è Dio che lo dice. Dio lo può dire, perché Lui è il creatore dell'universo, è il nostro creatore. Ora, dobbiamo sapere che senza il ravvedimento e poi la fede nel Signore Gesù, non abbiamo risultati nella nostra vita. Possiamo essere attratti e diventare simpatizzanti di un gruppo, come sono simpatizzanti i gruppi dei pescatori con i pescatori, i cacciatori con i cacciatori. Ma per avere una vita nuova, quella spirituale, Dio ordina che bisogna fare questo passo. Senza questo passo non funziona. E poi ci troviamo come? Restiamo per un po' di tempo e dopo abbandoniamo l'impresa, perché non abbiamo visto risultati. E' come quando prendi una medicina e non vedi benessere. Cosa fai? Non la prendi più. Giovanni Battista, Giove, chiedo scusa, aveva accarezzato il sospetto che Dio fosse ingiusto. Ma quando comprese la onnipotenza di Dio. Leggiamolo insieme in Giove 42,2. Il capitolo 42 è quasi alla fine della sua vita. Non proprio, però. Io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Egli comprese la onnipotenza di Dio, colui che tutto può. Lui aveva attraversato una grande difficoltà, una grande prova. Giove, dico. Ed anche la sua onniscienza, il suo tutto sapere, Dio sa tutto, nel verso 3 dello stesso capitolo. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato. Riconosce che è venuto meno lungo il cammino di sua vita, nelle prove. Ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Davanti a Dio dice, perciò mi ravvedo. Verso 6, leggiamolo insieme. 42,6. Questo principio morale governa la salvezza e la santificazione del peccatore. Signore, aiutaci. Se, voglio dire, se lo fa Giobbe, Giobbe era un campione davanti a Dio. Leggiamo in Giobbe capitolo 1, verso 8, Cosa dice Dio davanti a Satana, il nemico nostro comune di quest'uomo? Giobbe 1, 8 Il Signore disse a Satana, Hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia, integro, retto, tema Dio e funga il male. Questo campione di fede passò tutta la sua vita senza peccare resse a tutte le intemperie che si riversavano su di lui resto sano e saldo ma solo per chi aveva pensato che Dio fosse stato ingiusto nel trattarlo in quel modo nel capitolo 42 alla fine, quando comprende quando gli occhi suoi si aprono nel verso 6 del capitolo 42 rileggiamo Perciò mi ravvedo mi pento sulla polvere e sulla cenere Questo principio morale governa la salvezza e la santificazione del peccatore Noi siamo peccatori Ora, questo principio come abbiamo letto Dio dunque passando sopra i tempi dell'ignoranza ora, come allora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano è Dio che ordina questo Ora, se Dio lo dice c'è un motivo valido perché se nella predicazione del Vangelo non si predica il ravvedimento e poi la fede in Cristo non veniamo salvati diventiamo dei religiosi ma non riceviamo la salvezza Ma infatti Giovanni Battista come precursore di Cristo nel capitolo 3 verso 2 di Matteo dice questo leggiamo La vedetevi perché il regno dei cieli è vicino perché la sfera del dominio di Dio possa includere o possa penetrare nella nostra vita perché il regno di Dio è spirituale In Luca capitolo 17 verso 21 Gesù dice che il regno dei cieli è dentro al nostro cuore perciò è spirituale leggiamo Luca 17 21 non è su una montagna non è in una chiesa non è in una denominazione eccolo qua eccolo là il regno di Dio è in mezzo a voi un'altra versione chiarisce questo punto e dice è nei vostri cuori perciò il ravvenimento fa parte di un cambiamento dentro di noi perché possa manifestarsi dentro di noi se non viene questo cambiamento non nasciamo di nuovo e allora non siamo salvati abbiamo cambiato religione abbiamo cambiato chiesa abbiamo cambiato denominazione ma questo non è salvezza questo è molto importante saperlo perché sui principi della parola di Dio e come abbiamo visto questo principio morale governa la nostra salvezza e la nostra santificazione per poi arrivare a destinazione Gesù il figlio di Dio nel suo ministero all'inizio del ministero dice la stessa cosa nel capitolo 4 di Matteo verso 17 inizia proprio allo stesso modo perciò è importante leggiamolo insieme da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino cioè ad un passo da ciascuno di noi nel momento che ci ravvediamo e poniamo fede in Cristo più vicino di così è già dove siamo noi non dobbiamo andare chissà dove il ravvedimento è il tema sempre presente in tutti gli insegnamenti di Gesù e nel suo ultimo mandato per tutti quelli che annunceranno il Vangelo nel capitolo 24 verso 47 di Luca concentra come in un guscio di noce questo insegnamento profondo che serve ravvedimento fede e perdono ma Shanda che bello leggiamolo insieme e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti cominciando da Gerusalemme ora Gesù dice questo ma abbiamo anche letto Dio la pensa allo stesso modo Dio dunque passando sopra i tempi dell'ignoranza ora comanda che tutti gli uomini in ogni luogo si ravvedano Dio Gesù Giovanni Battista gli apostoli dicono tutti la stessa cosa Giobbe un campione di fede Giobbe dice perciò mi ravvedo mi pento sulla polvere e sulla cenere riflettiamo per un attimo vuol dire che è importante se le predicazioni vengono fatte diversamente ti posso fare una domanda c'è qualcosa che non funziona è un Vangelo diverso e poi non vediamo risultato allora o partiamo col piede giusto o se no è meglio che non partiamo perché perché restiamo delusi signore aiutaci sai a volte ci imbrogliano gli altri e ci ingannano gli altri ma sai che possiamo restare ingannati anche noi da noi stessi perché pensiamo ma i conti poi non quadrano San Paolo dice proprio questo non vi ingannate fratelli non ci possiamo beffare di Dio cioè non rattoppiamo le cose a un secondo noi perché poi non funziona che facciamo è meglio partire bene così continuiamo vediamo i risultati ci incoraggiamo e non ci fermiamo più fino nell'eternità il ravvedimento e il perdono perché Dio ha prestabilito ma che bella la parola del Signore allora da un lato leggiamo Dio dunque passando sopra i tempi dell'ignoranza ora comanda dagli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano in Romani 3.25 dice così sempre Dio comanda lui è il sovrano se come credente non ammettiamo che Dio comanda tutto allora non siamo credenti leggiamo Romani 3.25 Dio Dio lo ha prestabilito che cosa perché Dio ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato allora il ravvedimento ci porta a vedere il dono di Dio suo figlio come sacrificio propiziatorio cioè la sua morte al nostro posto noi che eravamo morti nella fossa biologica del peccato perché così eravamo e mentre mi preparavo mi è venuta in mente che abbiamo una fossa biologica giù che c'è di tutto e di più noi eravamo morti così nella nella melma nel peccato Signore aiutaci in Colossesi 2.13 dice così leggiamolo voi che eravate morti nella fossa biologica eravamo nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne voi dico Dio ha verificati con lui perdonandoci tutti i peccati allora mettendo insieme questo concetto Dio dice il ravvedimento è importante e poi porre fede in colui che ha pagato per noi perché abbiamo tutto il vecchio dove lo mettiamo ammesso che tu vuoi ravvederti in questo momento il passato chi te lo perdona perciò c'è bisogno di avere il perdono del passato di essere lavati il lavacro è necessario chi ti lava se ti ravvedi soltanto Cristo ci ha perdonati ha condonato ha strappato tutti i documenti come dice nel verso che segue dovunque era scritto che noi avevamo peccato ha strappato tutto leggiamo il verso 14 avendo cancellato il documento a noi ostile i cui comandamenti ci condannavano mi ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce mi viene in mente un amico che faceva la tendata ventita di caffè un giorno l'ho trovato tutto sconvolto mi ho detto che cos'hai mi ha detto ma guarda mi è successa qualcosa che tu non puoi immaginare sono entrato nel bar per dire al cliente che mi doveva 150.000 lire qualcosa del genere mi ha detto no io non ti devo niente come ho detto non mi devi niente guarda che c'è la bolletta qui con la tua firma sotto gliel'ho data in mano e sai cosa ha fatto se l'ha buttata in bocca e l'ha ingoiata sono restato lì a guardarlo ho detto ma questo cosa fa adesso non ho più la carta di poter dire che avanzo i soldi perché se l'ha mangiato ti sembra strano veramente quei soldi non li ha più recuperati anche se ha fatto qualche cosa mi ha detto sai sono andato avevo una matita in tasca gliel'ho puntata contro la gamba dicendo guarda c'ho la pistola ti sparo se non mi dai i soldi ma non me li ha dato sai come aveva messo la matita che usciva così fuori dalla tasca dentro gli faceva sentire come se fosse la punta della pistola guarda che ti sparo se non mi dai i 150.000 lire quella ha detto sparami ma non te li do ma cosa voleva sparare con la matita in parole diverse quando il signore Gesù Cristo cancella tutto di te e lui lo fa perché ci lava col suo sangue il sangue nell'antico patto serviva per coprire anche la legge Dio non vedeva più la legge quando versavano il sangue veniva coperto il peccato e anche la legge che accusava che bello ma quanto è cara la parola di Dio leggiamo un'altra volta il verso 14 ecco cosa succede nella nostra vita Cristo sulla croce ha cancellato il documento che ci dichiarava peccatori i cui comandamenti ci contannavano e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce per giustificare chi ha fede in Gesù quando noi portiamo fede in Gesù allora beneficiamo di questa opera leggiamo nel verso 26 del capitolo 3 di Romani così comprendiamo bene cosa ha fatto il Signore per noi al tempo della sua divina pazienza e per mostrare la sua giustizia nel tempo presente lo ha fatto nel passato ma noi ne godiamo nel presente affinché egli sia giusto e giustifichi giustifica anche noi che abbiamo fede in Gesù allora abbiamo bisogno del ravvedimento e della fede in Gesù e questo è la salvezza completa un Vangelo predicato diversamente da questo non è Vangelo e non cambia nulla il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede ma cosa crediamo dobbiamo credere quello che dice credere che Gesù Cristo è Daniello che ha dato la sua vita per noi e perciò noi beneficiamo del suo perdono Signore grazie senza Cristo noi non siamo in grado di soddisfare la giustizia della legge divina perciò Dio dice ora a me e a te Dio dunque passato sopra i tempi dell'ignoranza perché adesso non siamo più ignoranti adesso possiamo leggere la parola del Signore adesso puoi leggere nella parola di Dio che è così i nostri padri non sapevano leggere oppure se andavano in chiesa gliela leggevano in latino non capivano niente ma adesso capiamo prenditi la Bibbia consultala ti raccomando è molto importante è il libro più conosciuto al mondo più tradotto in tutte le lingue non te lo puoi far mancare perché questo ti porta a salvezza Dio Dio ora comanda che ci dobbiamo ravvedere perché ha prestabilito Dio ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la nostra fede nel suo sangue per mostrare la sua giustizia avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato perché se ti ravvedi solamente i peccati che hai commesso in passato chi te li perdona Dio non li può fare perché Gesù è il salvatore perciò c'è bisogno del salvatore Gesù è il salvatore del mondo perché Gesù ha pagato Signore aiutaci ti preghiamo Signore porta luce spirituale la via della salvezza gratis allora Gesù ha predicato il ravvedimento da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino lo ha ordinato a tutti quelli che predicano il Vangelo oh Signore grazie e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti cominciando da Gerusalemme dal centro da dove Cristo è morto per i nostri peccati fino all'estremità della terra perciò dice Gesù chi crede in me ha vita eterna infatti la sua predicazione soprattutto se tu leggi nel Vangelo di Giovanni dice che la salvezza è per la fede in lui credere che cosa credere quello che dice di essere è quello che dice che lui ha fatto leggiamo soltanto due versi nel capitolo 6 verso 47 dice così leggiamo in verità la verità di Dio è questa chi crede in me ha vita eterna se leggiamo in Giovanni 3 36 leggiamo dice chi crede nel figlio ha vita eterna figlio di Dio è Gesù chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita perché non c'è un altro mezzo che può essere salvato e dove resta che cosa gli resta addosso l'ira di Dio rimane sopra di lui perché non abbiamo creduto non ci chiede di fare sacrifici non ci chiede di offrire noi stessi in sacrificio non ci chiede di offrire i nostri figli o di pagare qualcosa ci dice di credere avere fede in quello che lui ha già fatto e non solo ma ci spiega anche che lui dopo la nostra morte lui è la nostra risurrezione in Giovanni 11 25 dice io sono la risurrezione perché risuscitò Lazzaro dopo quattro giorni che puzzava io sono la risurrezione e la vita chi crede in me anche se muore fisicamente vivrà risusciterà io lo risusciterò nell'ultimo giorno lo dice in più parti anche se moriamo fisicamente viviamo eternamente tutto questo è per grazia non meritiamo niente in Efesini 2 8 e 9 ci dice che la legge è uguale per tutti la legge della grazia infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi è il dono di Dio Gesù è il dono di Dio nessuno si può o si deve vantare e lo dice nel verso 9 non è in virtù di opere perché nessuno può alzare un dito nessuno può vantarsi nel dire io ho fatto questo e perciò mi ha salvato qualche volta sentiamo delle testimonianze di credenti che dicono io poi ho fatto così ho fatto cosa abbiamo fatto tante cose perché lo Spirito Santo quando comincia questa opera ci fa sentire nel cuore di fare alcune cose ma non siamo noi è lo Spirito di Dio che guida il nostro andamento quando noi desideriamo di essere salvati perché abbiamo la predisposizione di voler essere ubbidienti a ciò che lo Spirito Santo ci fa sentire attraverso la nostra propria coscienza bellissima salvezza senza ravvedimento non c'è salvezza senza lasciare la vecchia via e i vecchi pensieri non possiamo essere salvati cioè non possiamo restare nella fossa biologica e pensare che viviamo bene restiamo sporchi come siamo il Signore il Signore ci tira fuori ci lava ci purifica e poi ci fa vivere una vita diversa beh guardiamo come ce lo spiega bene Isaia nel capitolo 55 verso 7 cioè il libro di Isaia è come se fosse il Vangelo dell'Antico Testamento che ci offre la grazia leggiamo nel capitolo 55 verso 7 lasci l'Empio la sua via se siamo nella via sbagliata non dobbiamo continuare dobbiamo cambiare strada e l'uomo inique i suoi pensieri perché il peccato comincia nei nostri pensieri come diceva Dio a fratello di Abele Caino guarda che il peccato bussa alla tua porta ma tu lo puoi dominare era nei pensieri che lo tentavo e dice si converta egli al Signore ci vuole la conversione questo è il ravvedimento che Dio avrà pietà di lui al nostro Dio che non si stanca mai di perdonare ecco qua l'abbandono del peccato quando noi cominciamo a cercare Dio c'è in noi ci deve essere in noi la predisposizione di voler lasciare la vecchia via per seguire quella di Dio la nuova via qual è la nuova via Gesù dice in Giovanni 14 6 io sono la via la verità e la vita dobbiamo cominciare a seguire lui che diventa il punto di riferimento delle nuove direttive che dobbiamo seguire i suoi insegnamenti leggiamolo così abbiamo chiaro in mente Gesù dice io sono la via non ti smarrire non andare a destra e a sinistra questo e quello io sono la verità e io sono la vita nessuno viene al Padre se non permesso di me ora nel capitolo 55 verso 6 rispecchia questo insegnamento leggiamolo insieme cercate il Signore mentre lo si può trovare invocatelo mentre è vicino cioè mentre noi lo cerchiamo ma questo non salva questo è il primo passo perché tutto il precedente dove lo lasciamo non basta essere soltanto delle persone che pregano e che fanno elemosine fanno buone opere perché in tutto il Vangelo ci dà degli insegnamenti pratici in modo che noi abbiamo dei prototipi per comprendere che ciò che dice il Signore è anche contemplato attraverso altri che hanno sono passati dove noi siamo guardiamo per esempio nel capitolo 10 degli Atti degli Apostoli leggiamo il verso 1 e 2 un nostro compaesano che abitava lì vi era in Cesarea un uomo di nome Cornelio centurione della corte detta italica quest'uomo era pio e timorato di Dio con tutta la sua famiglia una bellissima famiglia faceva molte le mosse né al popolo e pregava Dio assiduamente era uno che aveva capito nella legge giudaica si trovava lì di muoversi in quel modo era impeccabile potremmo dire questo è un uomo salvato invece no una volta quando il Signore mi ha salvato mi piaceva evangelizzare salivo sugli autobus cercavo di prendere sempre trattati avere sempre del materiale evangelistico da portare da dare alle persone a volte mi imbattevo in persone che erano più bravi di me e io gli parlavo del Signore mi creavo un dubbio dicevo ma questo è più bravo di me che cosa gli sto dicendo la sua vita è più onesta più seria della mia io sono stato così sbandato questo è corretto e ho detto Signore ma questa è una persona per bene una volta due tre un giorno il Signore mi ha detto aspetta ti spiego questa è una persona per bene per il regno della terra ma non è nato di nuovo la differenza è che tu sei nato di nuovo lui deve nascere di nuovo se non nasce di nuovo non è salvato è una brava persona è un esempio di vita sul piano morale sul piano di vita qui sulla terra ma per entrare nel regno dei cieli deve nascere di nuovo Signore subito mi ha dato la risposta una risposta convincente che te ne parlo ancora oggi perché la Bibbia lo dice guardiamo il verso 3 e 4 di quest'uomo che era impeccabile e qui era veramente impeccabile perché egli vide chiaramente in visione verso l'ora nonna del giorno un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse Cornelio hai visto mai un angelo lui sì e gli guardandolo fisso e preso da spavento rispose che c'è Signore e l'angelo gli disse le tue preghiere le tue lemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio bellissimo questo poteva essere salvato no ma non lo dico io Dio ha portato una programmazione che aveva bisogno di essere salvato e quel modo di vita era buono ma non era salvato Dio gli ha detto manda a chiamare a Giaffa un certo Pietro Pietro era ripieno di Spirito Santo fece tre giorni di cammino per andare a portare il messaggio che Gesù è il Salvatore che doveva avere fede nel Signore Gesù dopo tre giorni di cammino era inaspettativo a lui con tutto il suo parentato per quest'uomo di Dio che l'agelo gli aveva detto che doveva chiamare quando Pietro arrivò insieme con altri credenti che andavano in gruppo nel verso 38 leggiamo cosa gli dice gli parla di Gesù vale a dire la storia di Gesù di Nazareth come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza e come egli è andato dappertutto facendo del bene guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo perché Dio era con lui la storia di Gesù come uomo aveva bisogno dello Spirito Santo tutto fu fatto per mezzo dello Spirito Santo e fu fatto tutto bene come Dio e con noi quando siamo in Cristo mentre parlava di Gesù ecco la necessità io ti sto parlando di Gesù tu puoi essere come Cornelio un bravissimo religioso una bravissima religiosa che fai tante opere buone preghi sempre ma hai bisogno di Gesù Signore grazie per la Tua parola e infatti dal verso 38 al verso 44 il Signore fece un'opera potente comprese perché aveva il desiderio di ascoltare e di fare ciò che gli veniva detto perché per Cornelio Pietro era un mandato da Dio noi quando predichiamo il Vangelo siamo mandati da Dio quando predichiamo il Vangelo così com'è succede di tutto e di più infatti nel verso 44 guarda cosa succede mentre Pietro parlava così di che cosa parlava? parlava di Gesù come Gesù aveva dato la sua vita e che doveva avere fede in Gesù lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola sì perché Gesù ha detto Gesù ha detto e Pietro si ricordava nel capitolo 18 di Matteo nel verso 20 dice che dove sono due o tre radunati nel mio nome lì sono io in mezzo a loro sai che il Signore è qui dove sei tu adesso è qui dove sono io perché noi siamo radunati nel suo nome ti ricordi che abbiamo pregato quando siamo partiti cosa abbiamo fatto abbiamo invocato il nome del Signore che partecipi la sua presenza proprio dove sei tu dove sono io egli è qui sai che ti può battezzare nello Spirito Santo in questo momento se tu lo desideri rivolgi lo sguardo verso di lui e dici Signore io ho bisogno di questo battesimo nello Spirito Santo lui è qui per operare lui è qui per salvare lui è qui per battezzare nello Spirito Santo lui ti vuole salvare apri il tuo cuore a lui mettiti in un'aspettativa come era Cornelio Cornelio aveva un grande desiderio di ascoltare ciò che doveva dire Pietro perché Pietro era un uomo mandato da Dio per lui l'angelo gliel'aveva detto io sto predicando il Vangelo lo stesso Vangelo abbiamo pregato insieme Gesù è presente dove sei tu andiamo a lui con tutto il cuore rivolgiti a lui Signore Gesù io ho bisogno di te ho bisogno di vedere l'opera tua che si sviluppi nella mia vita vai invocalo con tutto il cuore invochiamolo insieme perché nel verso 19 dice così leggiamo insieme in verità vi dico anche se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli gloria sia resa a Dio quando noi siamo accordati qui Pietro Dio gli aveva detto di andare l'angelo aveva detto di chiamarlo quando crediamo che Dio vuole lui ci esaudisce quello che Dio vuole sai che Dio vuole che tu sia salvato Dio vuole che tu sia salvato Dio lo dice nella sua parola te lo voglio leggere in primo Timoteo 2 4 Dio vuole che tu sia salvata sorella Dio vuole che tu sia salvato fratello leggiamolo insieme il quale vuole il quale vuole che tutti gli uomini non solo gli uomini ma anche le donne qui parla di essere umani siano salvati e vengano alla conoscenza della verità il Signore vuole che tu sia salvato chiunque tu sia tu puoi essere anche il presidente della Repubblica puoi essere la persona più importante del mondo o la più povera del mondo lui vuole che tu sia salvato vuoi pregare insieme con me per la salvezza digli col cuore Signore Gesù io ho bisogno di essere salvato salvami in questo momento una preghiera corta come quella di Pietro quando stava per annegare disse Signore salvami e il Signore lo salvò il Signore ti vuole salvare invoca Dio per la salvezza diciamoglielo insieme accordiamoci accordati con me Signore per amore del tuo nome salva questa sorella salva questo fratello salva colui che sta gridando a te che vuole la salvezza salva con lei che sta in questo momento gridando a te per essere salvata Signore Gesù per amore del tuo nome porta la salvezza in questa casa in questa famiglia tu sai il disastro che c'è in quella sua casa Signore per amore del tuo nome salvala salvalo e salva anche la sua famiglia Signore ti preghiamo insieme tu sai che è un disastro senza di te Signore per amore del tuo nome salva questa famiglia perché tu sai i guai che ci sono tu solo puoi cambiare la sua vita e la sua casa e la vita dei suoi figli del suo marito della sua moglie nel nome di Gesù sì 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 oh Signore per amore del tuo nome salva salva questa famiglia te lo chiediamo insieme nel nome di Gesù Padre sì sì quando chiediamo quello che Dio vuole lui ci esaudisce ricorda la fede senza il ravvedimento non va il ravvedimento senza la fede in Cristo non salva tutte le predicazioni che non espongono questo principio non ti portano alla salvezza guarda come è chiaro il messaggio in Luca 24 47 come è concentrato il messaggio in poche parole sembra come ho detto prima tutto il Vangelo racchiuso in un guscio di noce così proprio il condensato il succo leggiamolo insieme è importante sapere queste cose 24 47 Luca 24 47 dice così e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento molto importante per il perdono dei peccati a tutte le genti e oggi Signore mi ha permesso di predicarlo a te questo è il metodo scritturale qualsiasi altro metodo non è valido non regge questo vale per il mondo intero per tutta la razza umana di qualsiasi colore e di qualsiasi cultura se hai provato vedrai che funziona se provi se non hai provato puoi sempre provare ad iniziare in questo modo e ti rivolgi al Signore vedrai che funziona a qualsiasi ora del giorno tu vai io ti consiglio di farlo adesso però funziona io come salvato ti posso testimoniare che così è iniziata la mia vita di fede così Signore mi ha cambiato così mi ha salvato così mi ha battezzato nello Spirito Santo e così continuo a vivere ogni giorno allo stesso modo in primo Giovanni 1.9 dice così che una volta che siamo salvati come dice Gesù che ogni giorno dobbiamo essere lavati da quelle sporcizie che si accumulano intorno al nostro cammino in primo Giovanni 1.9 dice così se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità Giobbe come faceva perciò mi ravvedo e mi pento sulla cenere questo è il ravvedimento pentirsi di aver fatto degli errori durante la giornata una regolare confessione è indice di vera salvezza dobbiamo camminare nella luce adesso nel verso 7 ci dice che nel momento che cominciamo a camminare così camminiamo nella luce di Cristo non è la luce del sole è quella luce che c'era prima che il sole fosse creato fosse creato ma se camminiamo nella luce come egli è nella luce abbiamo comunione tra di noi e il sangue di Gesù suo figlio ci purifica da ogni peccato veniamo purificati dal sangue di Gesù un vero cristiano non cammina nelle tenebre non cammina più nelle tenebre in Colossesi capitolo 1 verso 12 ci da ci dice ci spiega come camminiamo diciamo insieme ringraziando con gioia il Padre che ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei Santi nella luce significa nella verità divina nella luce vuol dire nella verità di Dio ogni giorno chiediamo di essere purificati l'abbiamo già letto rileggiamolo primo Giovanni 1.9 è importante seguire i passi della parola di Dio perché ci porta per la mano se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità la vedendoci vuol dire lasciando ciò che non piace a Dio e fare quello che piace abbiamo detto abbiamo detto un campione come Giove lo abbiamo letto rileggiamolo così lo ricordiamo Giove 1.8 Giove era un esempio che davanti a Satana non venne meno neppure per tutta la sua vita il Signore disse a Satana hai notato il mio servo Giove non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro retto tema Dio e funga il male lui curava tutta la sua famiglia si preoccupava dei suoi figli è un grande esempio per me quando ci penso tutti i giorni lui quando i figli stavano insieme a mangiare lui offriva holocausti secondo il vecchio sistema pensava che sicuramente hanno peccato contro Dio e io faccio questo noi dobbiamo pregare per i nostri figli ogni giorno anche più volte al giorno ti posso chiedere questo è stato un esempio per me io non uccido tutti i giorni gli animali perché non dobbiamo ma tutti i giorni in bocco il sacrificio di Cristo per i miei figli nella mia famiglia non escono mai la mattina se non preghiamo insieme se non ci sono io pregano con la mamma ci cercano prima che escano e la sera non vanno a dormire se prima non abbiamo pregato insieme anche se succede che qualcuno fa più tardi o vuole andare a letto prima andiamo a cercare la mamma o cercare il papà se non c'è la mamma Giobbe è un esempio eppure Giobbe dovette ravvedersi lo vogliamo rileggere perciò mi ravvedo mi pento sulla polvere e sulla cenere si ravvide Paolo predicava la salvezza e che Cristo è venuto per salvare i peccatori però diceva io sono il primo non era incerto della sua salvezza ma come uomo non si sentiva superiore a nessuno sentiva il bisogno di purificazione come dal primo giorno che incontrò Cristo sulla via di Damasco quando ricevette quella luce grande la salvezza era un vero povero di spirito Paolo così dobbiamo essere noi come sono i poveri di spirito leggiamolo insieme Matteo 5 3 uno che vuole sempre di più beati poveri in spirito perché di loro il regno dei cieli cioè non pensiamo mai di essere arrivati ci sentiamo sempre di voler ricevere di più mentre ascoltiamo la parola vogliamo ricevere di più mentre cerchiamo di fare la volontà del Signore ci pare sempre che abbiamo fatto poco qualsiasi cosa facciamo ci pare che non abbiamo fatto niente perché il Signore ha fatto tanto per noi e ogni cosa che facciamo cerchiamo di farla perché possa onorare Dio predisponiamoci così così viviamo la salvezza al completo perché se no diventiamo standardizzati apatici meccanici e alla fine diventiamo cristiani formali anche se serviamo il Signore come noi che serviamo in parole di vita possiamo diventare statici come se fosse un lavoro come un altro e lo prendiamo così senza sviluppare idee desideri di muoverci di fare di dare spazio allo Spirito Santo che ci dia nuove idee come svilupparle mentre ci dà le idee che noi cerchiamo di poterlo fare e così restiamo sempre con cose nuove da fare da portare avanti perché Dio possa essere glorificato nella nostra vita attraverso la nostra vita e questo ci mantiene sempre in un in un ritmo continuo solo così non saremo tiepidi perché se no diventiamo tiepidi diventiamo che camminiamo come per inerzia diventiamo degli abituè e non serviamo più a niente non sentiamo neppure il piacere di fare quello che facciamo perché ci dà l'impressione che stiamo facendo anche troppo ci cominciamo a misurare con quelli che non fanno niente e ci sentiamo già che facciamo assai e questo è un trucco del diavolo anziché di farci vedere chi fa di più per migliorare ci fa vedere chi fa di meno per farci sentire soddisfatti e così se guardiamo indietro così possiamo anche dormire 24 ore al giorno facciamo sempre più degli altri e Signore aiutaci non dobbiamo scendere a questi livelli perché se no perdiamo il piacere di servire il Signore anche oggi il Signore ci ha parlato prendi sante decisioni che ci sono dei pezzi che lo Spirito Santo ti ha dato luce comincia a mettere in moto la luce che lo Spirito Santo ti ha dato applica quei principi che ti sono diventati chiari perché Lui è sempre all'opera certo che se ti dico che devi ricordare tutto quello che ho detto non lo ricordo neppure io però ci sono delle porzioni che ti hanno parlato e ti parlano mentre la parola è fresca tu cerca di rileggerla ed applicala nella tua vita preghiamo insieme Signore ti ringraziamo per la tua parola perché è piena di fragranza di ricchezza di desiderio di farci piacere a te che lo chiediamo insieme Signore ti prego per la sorella per il fratello energizza ciò che di tuo nella sua vita nel nome di Gesù Amen 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 Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org